Eccomi anche oggi in cucina pronta ad assaggiare insieme allo chef Antonio Ziantoni che sta scolando che cosa? La pasta, cosa stai preparando? I nostri plin. Ah i plin, rivieni di? Un blu è un formaggio erborinato, li saltiamo appena appena in padella. Con una noce di burro visto? Con una noce di burro, poi li andiamo ad impiattare nel nostro fondino. Ma che delizia! Devono essere appena appena laccati dal burro. Ok, quindi il vero condimento non è il burro? Non è il burro ma è. Ok, e invece qui vedo una gelatina, ecco. Il condimento è la gelatina di chiodo di carofano che andiamo a fare come mettendo del chiodo di carofano nell'acqua, facendo un'infusione e poi gelificandolo con della gelatina alimentare. Ok. E questo resta così? Questo resta così e infine andiamo a completare il tutto con un brodo di cipolla. E questo brodo di cipolla invece come lo fai? Il brodo di cipolla vengono stufate delle cipolle con del miele e poi vengono centrifugate, poi vengono filtrate e abbiamo questo estratto bellissimo tra l'altro perché vedete è molto lucido e va a completare il nostro piatto. Con un profumo delizioso, invitante, che mi porta ovviamente a dire che noi adesso vi salutiamo perché io intanto assaggio. Ciao, a presto!